Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video lezione sul libro primo degli elementi di Euclide. Oggi tratteremo il ventesimo teorema. Nel teorema si afferma che la somma di due lati sostituiti in ogni modo di ogni triangolo è maggiore del lato restante. Ovvero, se noi sommiamo il lato nero a quello blu, la loro somma darà un lato maggiore a quello rosso. Se noi sommeremo il lato blu al lato rosso, la loro somma darà un lato maggiore a quello nero. Se noi sommeremo il lato nero a quello rosso, la loro somma darà un lato maggiore a quello blu. E questo vale in ogni triangolo. Come dimostrarlo? Innanzitutto prolunghiamo il lato nero per una lunghezza pari al lato rosso. Quindi puntiamo il nostro compasso e diamogli un'apertura uguale al lato rosso. A questo punto tracciamo il raggio del cerchio che va a prolungare questo lato nero. Adesso dunque avremo che questo lato è formato dalla somma del lato nero più il lato rosso. Congiugiamo questi due lati rossi fra di loro creando così un triangolo isocele. adesso allora avremo appunto un triangolo isocele che ha quindi sia i lati, questi rossi uguali, sia gli angoli alla base. Quindi l'angolo giallo sarà uguale all'angolo rosso e l'angolo rosso è solo una porzione dell'angolo nero. Quindi l'angolo nero, essendo maggiore dell'angolo rosso, sarà anche maggiore dell'angolo giallo che appunto, come si diceva, è uguale al rosso. E come ci ha insegnato il diciottesimo teorema, sotto l'angolo maggiore si tende il lato maggiore. Quindi se l'angolo nero è maggiore dell'angolo giallo, il lato formato dal lato nero e il lato rosso sarà maggiore del lato blu del triangolo. Seguendo lo stesso metodo si potrà dimostrare che qualsiasi somma di due lati di un triangolo è sempre maggiore del lato restante. Con questo abbiamo concluso, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!